Weee Ara Ara Ok Ciao Allora Io dovevo prendere le cose giornaline NON ha fatto un cazzo oggi Ha partito i Fulmini E' diventato Zelda qua Finalmente Ciao 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 Si Si Poi La trama di questo gioco Praticamente Hai perso tuo fratello E lo devi ritrovare Mi sta chiedendo troppo In questo gioco la trama la schippo Come se non ci fossero domani Ok E qua che cazzo c'è Chi è Ma non c'è niente Ah qua Ah si perchè c'ho Carla Fracci qua Ci sono le donne che fanno i vestiti Del gioco perchè sono le arrabate per cazzo Com'è tirare il suo saio Ragazzi devo farlo Ok C'ho ancora altro Scusate non l'avevo visto C'ho anche le mail In mo non tanto ok Cosa mi dai Stormcress pie The day of my birthday Non è il mio complanno però ti ringrazio Climo Ah e ho già climato tutto Ma ho fatto Non so passare da via Che è sta roba Che mi hai dato Un agi meat Buona La carne De che cosa De anguilla Allora in realtà dovevo fare una missione qua Quindi Non so neanche che missione Quindi mi amo E cerchiamo anche di prendere il La 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 Questa qua Addio Ok La ballista Per cacciare le gogo Hai ragione Grazie Non è che c'è l'io che si riguarda le cose al posto Madonna Madonna Spazzi sclerati Quindi Io spero di arrivare qua Forse qua sotto Ok Non voglio cucinare Voglio prendere questo Quanta roba Madonna Madonna E la peppa Ah me lo distruggono loro Eh no Ci sa Cosa Quello stanno Beh che non c'è un cazzo Comunque Forse devo usare cosa Sicuramente qua posso fare Così Ok Una grid sword ogeo Infatti immaginavo Quindi dobbiamo andare qua Eh Sare a party E Come ho aumentato Un attimo Ocean link Ci mettiamo Ci mettiamo Dov'è? Qua qua Yeeey Sono ricco Ok Sì sì Non la trovavo E Al posto di Noelle Rimettiamo Shanling Ok Diamo se forse Riesca a tirare su Al 50 Cosa Lei Sì Direvo di sì Ok Confermo Iai Ok Mi sa che più del 50 Non posso portarli Perché per farli a scendere Avrò bisogno di Ok Adventure in 30 Immaginavo Te sei al 40 Te posso farti a scendere Attenzione Ho bisogno di un sacco di roba Per la docena del plug anale Chilo troppo Vabbè Un cavo per fare sta roba Dalla punta esclamativa Attualmente rischi di perderlo Quale punto esclamativo? Una cosa che sta qua sulla mappa Sì Non ne sto prendendo nessuno Di punto esclamativo Aiuto No Non volevo bagnarmi Bastardo Non volevo bagnarmi Sì 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 Ah, c'è dell'altro qua? Ah no, è che ci doveva far arrivare Giovanni qui. Vabbè, lo troverò su probabilmente. No, perché devo farne arrivare uno anche qua. Ah, qua in realtà è per una missione. La balista Gwinson è un'intricata macchina di concezione divina e è diventato possibile usarla dal... grazie ai carpentieri mortali attraverso un grandissimo grado di toil, non so cosa sia. Gli screen iscritti che sono, ovviamente ho bisogno di roba per sbloccarli. Solamente attraverso manutenzione. Polimo Nero è una grande macchina potente, vabbè, dopo secoli di pace nella banda. Vabbè, riportare il mondo in guerra un'altra volta. Tante queste parti devono essere... sono necessarie e... Vabbè. Andato al collezionatore... ma no, ma è lunghissimo questi cazzi. Che storia in questa parte? Basta. Allora, prima di tutto cerchiamo il tipo. Ma ecco, le torce quindi sono da accendere, non c'è... Non ci devo far arrivare il piripicchio là. C'è uno scrigno, lo vedo, lo vedo. Lo vedo, è lui. Lo vedo, è lui. Ma mi sto sperando? Penso di sì. Che forte. Mamma e papà non ho tempo per tornare a casa e giocare con me, quindi... Ma sono 20 anni, diciamo. Ah, perché è childish, ok. Quindi so, quindi giocare qua tanto da solo, ma è noioso giocare con solamente una persona. In più non posso stare troppo lontano da casa, altrimenti mamma e papà non sarebbero... Non riuscirebbero a tornare... O ritrovarmi... O ritrovarmi... O da una casa... E comincerebbero a me io. Eh, eh, sì, infatti. Zuzzone. Vuol giocare con me io che un pre-itempsic... Come se mi sono giocato a nascondere, è molto facile vedere chiunque può giocare. Eh, famolo. Ok. Vediamo un secondo... Non ho pensato a me nascondimi. Ah, non mi troverai. Ready? Eh, no. Ok. Cioè, ho un minuto per te la sto qua. Forchè, non mi attacca. Ma perché ho accettato sta merda? Non devo stare a sto stronzo. Mazzo, grazie mille! Ben ritrovato! Ormai è troppo tardi. Ma è viva? Non è possibile. Oh, mi regali dei soldini. È più importante lui, mi dispiace. Il rinnovo. Che rinnovo? Ah, per la missione, è giusto. Little Clue? Dietro una roccia. Eh, vabbè. Ormai si continua, ragazzi. Così. Allora, dietro una roccia. Vediamo un po'. Non è che magari si ammazza qualcuno. Non rinnova il tempo. Vabbè, non approfittiamo a prendere un po' di... Un po' di roba, ora qua. Grazie, grazie. Molto gentile. Ricordo che indossavo sempre roba del Berserker quando giocavo ai tempi, quindi... Può essere che sia roba buona. Allora, è una roccia. Qua dietro. Eccolo qua, il bastardo. Vabbè. Quanto finisce? Non c'era quasi nessuno. Perfetto. Qua dietro? No. È dietro quell'albero, ne sono sicuro. È apparecemente là sopra. Ma proprio sicuro? È sparuto. Mancano otto secondi. Non lo troverò mai. Dove cazzo sta? Bastardo. Eh, immaginavo se c'era un albero, questo. Yeah! Quindi vicino a muovere gli alberi qua. A Carlo Magno. Ma va a fare ancora lì. Ma... Non ho capito cosa ho detto, in realtà. Forse dopo... C'è da una casa sua. Ah, non ho capito. Uh, tesoro. Saccheggiamo, saccheggiamo. Sì. Scendi, scendi per favore. Ciao. Ah, vedi. Vabbè, non mi frega niente della tua vita. Via. Fine. Ok. Ah, dobbiamo farci un'altra partita. No, te... Oh, Dio mio. Ma non finisce più questa missione. Ma in cosa mi sono impelagato? Poi perché non lo leggo? Avessi diretto a mostrare cosa devo fare. Questo qui, ragazzi, è colpa di Lio. Allora, no, ma siamo sopra Lio. Ma già due secondi, manca. Bad e Cliff. Ci stavo Bad e Cliff, comunque. Esattamente, esattamente. Eh, vedi. Ah, una cesta, là. Ma adesso, strunzi, è nascosto benissimo. Ma che è? No, no, Lio, è colpa tua. È colpa tua. South. Vabbè. Ma io ci stavo, South. Non penso che si sia dall'arrampicata. Di certo non il fi... Quel bastardo. I managed. Ok. Va bene. Va bene. Basta, mi hai giocato le palle. Quanto parli. Ready player zio. Minchia, è trenta primo gem. Porca miseria, ho fatto bene a farlo. Mo. Dove bisognava? No. Vata, ricorda. Eh, le questioni sono qua. Vai, navigami laggiù. Ma questa non è trama, è anche un... Un scemone. Guarda, guarda che belle gambette che c'ho, anche. Allora. Devo trovare le cose dai supply... Dai supply militari. Buoni supply. Allora, qua in effetti diceva roba. Vediamo un attimo. Allora, la prima parte l'ho letta. La seconda. Vediamo il collector. Le parti strutturali. Cioè i... I raggi e i... I arti dell'arco. Sono trovati foglietti nella storage room. One may rest assured that they will remain completely intact for a millennium. Anche il trigger, i fasteners, i flashings, i boostings e tutto quanto sono trovati in parti dedicati nel container. Per far riprendi quello che ho bisogno. Questa macchina è integrata in difesa da LAM. Ok. Chiarisci part... Tratta ogni singola parte come se partenze sotto il stesso corpo. E... 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 E fai i tuoi doveri di riparazione con... Cioè con... Esagerata le devozioni. Anche le quest giornaliere. Ah cazzo, quello non l'ho fatta. Grazie di me, mi ero dimenticato. Perché per me stavo facendo la principale. Non sono 60, scusami. Non sono 20. Siamo addetto chiunque... Vabbè. Sti gran cazzi. E quindi devo orrare... Oh, ho provato per sbagli. Mannaggia a me. Quindi... Come c'entro là dentro? Oh, finisco qua e lì? Vabbè la faccio quella roba. E sali... Madonna mia. Ciamurri! T'appostate. Sono 10 per questo e poi 20... Ah ok, quindi sono 40 e 60. Bravo. Ragazzi c'entrò là dentro. Oh. Ma porca... Ok. Ah, giustamente l'avevo sbloccato ma non lo devo... Ok, party setup. Rimettiamo Noelle che è qua. Ok. Ok. E qui non c'è altro da prendere. Quindi possiamo riparare la cosa. Aiut. Ok. Oh. Mal dire, sarà freddo, se no devo fare un po' di nausea. Ah, vedi, vedi, vedi. Bello, bello, bello. Ok. La balisa è più... Basta dove dobbiamo semplicemente fare questo? Guarda. Ha anche uno scopo. Niente. Niente. Siamo cercando qualcosa, stiamo cercando il capo della... dei hoarders nel termine del tesoro, vecchio uomo. Questo adesso possa essere un po' di nascosti, ma... non... non puoi andare in nessun modo vicino a loro con questa roba che ti... che ti fa da guardia, ti fa da balia. Ehm, ma trust me, mandavi zone, vabbè, due volte ci siamo vicino alla montagna, c'ha... ha quasi traffitto della stigione in città. Non ho scattato la nostra vite per disarmarla, chissà la città a fare, no, adesso tu la rimetti... la riguarda il pc. Vabbè, insomma... Ok, quindi che fai, dobbiamo picchiare? No, aspetta, va bene. Paruti setup! Ma l'ho tirato fuori oggi? Ma se ne fanno di male questo, eh? B 1. 2. 1. 2. 6. 9. 8. Aiuto Manca uno Oh ma che sei pazzo Dovrebbero essere finite No C'è uno qua sotto Il cazzo Mi è rimasto in vita con quanta vita Salve Voilà Micchia quanto cazzo L'hanno affatto Aia Sofartissimo Sofartissimo Va bene Che significa Sì Ok torno alla farmacia Bubu e C'è serine nel culo Ok Pai Non Sì è vero Beh abbiamo fatto il nostro maio Questo è già che conta Allora Dobbiamo tornare In città Però Prima di continuare la missione Facciamo un attimo le giornaliere Finalmente Facciamo velocemente le giornaliere va Che è lì Che succede Che è questo cuoricino Ok Lo scoprirei dopo Sì sì Lo scoprirei dopo Non ho molta curiosità Di queste Di queste Ecco Put Oh ma qua c'è un Nemommo Da prendere Sono qua sopra Ma qua non c'è Però sta proprio qua Qua dentro Eccolo qua Che fa Pazzo Andiamo Pazzo 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 11 nemici Da far fuori In questa missione Poi devo dire Di preparare a fare Velocemente Anche il L'ascensione di mono Prendere le robe Che servono Mi ricordassi a che serve E' anche di 10 In questo gioco Allora Pazzo madonna che danni oh shit che riflessi sono fortissimo la qui ingagno non so chi sia però si la lezione ricognita è la niera automata no perché non potevo non farlo scusate come si faceva? come si faceva? così? no no deve che forse così sempre lo stesso ok pensavo cambiasse f4 più alta grazie vabbè assolutamente mi conviene che me la tengo questa allora la prossima missione andiamo qua che è qua vicino navigate c'è un tp comunque con le parti no ma quanti quanti primo jump c'è? no 1496 venga male se vassi qua sotto che serviva no? c'è un gioculus da via ahia Eh direi che dovevo usare qualcosa ma non ci ho fatto caso. Oh vabbè eccolo ci stanno girando le verdi non l'ho vista e vedi si stava l'am. Oh domani vado al giapponese amici no non è vero dopo domani domani c'è ripetizioni non è noti comunque ok. Non andare no perché perché Anko? Eh che forte sono. Io non so dovevo venire fin qui. Non so che abbiocco che c'ho però. Navigate. Allora. Il mio nome so che chi. Che è sta roba? Ci lascio attraverso. Dove sono finito? Dove completare la challenge o no? Direi che sono morto forse. Forse sì forse. No. No. Ok. Sì? Sì? Esplodza Scusi tutto. Salve. Ah, qui stai girando le verdi, ok. Quella, che salto. Piu, piu. Ma vedete che la mia mono non fa danni comunque. Che detto così sembra tutt'altro, ma vabbè. Ok. Rimane l'ultima. Ah, davvero è così che funziona? Che storia, allora è un support, non è un main DPS, scusami. È tutta una bugia. Che è quel punto esclamativo con lo stendardo? Sulla mappa. Un marchio che hai messo tu? Che storia. Sai che c'era? Ma guarda, che cazzo sta sto gioco, luce. Vabbè. Ahia. Oh. Ah, era così facile. Ok, quindi adesso posso andare in una mappa e tornare a Ljue. Ok. 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 Sono salito di adventure rank senza saperlo. Sono ricchissimo Poi mo facciamo un attimo la roba per l'ascensione di Mona Ma intanto Homeward path Ragazzi c'è un tracer Dai Dai che sto straricco Eh Ok Cosa Cosa essere C'è altro Ok mo Karakudero La serenità Ti danno un'aria da ridare Ah ecco la famosa che dicevi te Mazzo ok Ok scendiamo Adora che mi serve Mi serve un'altra di questa che è droppata dalle Di come è dropparlo o craftarlo Mi metto e diamo che altro Ok Dropparlo Ok quindi conviene fare Le oceani di livello 40 più Cerchiamole No non era questo Qua Allora Enemies Elite o boss? Che boss penso No forse è elite No ecco qua Navigate Da giù Ok non so neanche cosa sia Non ce la faccio a fare da solo Oh devo chiedere aiuto a qualcuno di voi Eh si ho visto Provaci Ah ma è questa Oh cazzo si mi ricordo cos'è Oddio mi ricordo che era difficilissima Questa storia Come funziona? Parte da sola? Vado a andare qua immagino Ok Che vuole? Che non muore? Ma c'hanno un sacco di vita a sti cosi Scusami Vai piccione Ah ma prenderi danno Ok Wow I crabbi patti Ah ah Newba Oh no Oh no Oh man Oh no Ah Oh no Ah Oh no Ah Ah Scusami Oh no Eh Ah Aiuto Quanti danni Sono più danni che mi hanno fatto Che quelli per cui mi sono curato Ma eh Ficami di seria Che belli i eroni Morire Topperiamo un po' A curare così Ma non è che posso magari Ma seri Oh no Oh no Oh no 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 Trocca la ulti Aia Ma porca miseria Come minchia faccio Dove ci sarei 12 secondi Per poi fare Però non so cosa Questo non posso colpirlo Ehm Lei deve aspettare che mi ha ucciso, no? Ho bisogno di una mano. Ah, potevo tipparmi via, non lo sapevo. Posso farlo senza problemi, in realtà però sono tanti qui di schiaffi. Allora, per prima cosa... Devo andare a uno stato dei set. Che è... penso qui a questa qua, una stato dei set e no. Questa qua. Ok... Ho qualcosa da dargli, minchia. Ok, adesso posso ritipparmi là. Ok... Si, se è ormai rientro è una questione personale. Ok... Magari se non mi facessi colpire come un brocilla. Ok... 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 E la prima è andata. Ho preso dei danni dei quali mi voglio curare però. Inventario... No... La cazza c'è sicura. Forse è qua... Qua... Ma... Si, dai. Ma guarda si stronzi. Lo lontano. No... Ok... No... Ma... Oh... No... Ma... Ma... Ma hai ragione. Ma che ti ha ragione. Morri. Togliamolo subito, Mono. No, non posso farlo. Ma in realtà se lo facessi in maniera un po' più smart Ahia Tipo non così Ahia Ok Misuno 4,3,2,1 Ahia Che danni Vai Va bene così I cinghieri d'acqua sì sì sono fortissimi i cinghieri d'acqua Ok quindi Ok Il piccione è andato Ahia Ma crepaci Datemi il drop Cosa ho ottenuto? Tutto Tutto quello che mi serviva Dai Ok Mom Character Questo ce l'ho Questo ce l'ho Questo ce l'ho Ok Quindi andiamo In una qualsiasi città Che va bene anche nel villaggio Kins Non lo so Ammazza quanti ne devo trovare di cose ancora Guarda qua Poi andrò a sbloccarli Intanto Intanto Dove posso trovarle Delle case Dove trovare delle case Perché sotto ci stanno i funghi Sotto i detti No No Non è tutto uguale Spring Veil Andiamo Monza De fine Ah Sotto lezidranno Ok Sotto Come Voi 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 Non li vedo mica io questi funghi. Che ragazzi stanno? Ah... Che abbiamo la città. Torniamo a Springvale, la famosissima Springvale da questa qua. Oh, eccone qua uno. Che è un Eccolo che cercavo però, o si? Pim pum. E invece si. Oh, porca miseria. Ok. Scendi. Oh. Ma qua c'è da prendere un coso? Forse mi tocca salire. Non so se ci arrivo, è stato un po' troppo. No, ok, sì, ci arrivo, ci arrivo. Oddio, come ci arrivo io a questo? Eh, ma ormai col cazzo il che ho preso... Oh, che palle. Sì, no, lo so, se ne prendo tre fa una corrente. Il problema è che... Ma fa troppo lontana la corrente. Perché non so dove sia il terzo di sti cosi, non lo vedo mica. Eh, lo so che la fa dove prendo l'ultimo. Il problema è che se l'ultimo è troppo lontano. No, vabbè, sta qua. No, vabbè, sta qua. Iti choevo nell'entrata. Ok, noi sti cosi'm a salut. Allora, arriviamo. 1 2 L'ho visto! Ok, con questo siamo a 4 Uh, guarda un po' chi c'è adesso Ok, con questo Ok, ci sono anche altre cose da prendere Oh, guarda un po' chi c'è Ok, allora ho visto un funghetto là sopra Come lo raggiungo? Ma queste forse ci sono difficili da raggiungere Eccolo là Aspettiamo un attimo che ti carica Ma non era il solo comunque? Oddio Ok, su Oh, salve Abbastanza sicuro che... Eccolo qua Ok, quanti sono? Aspettiamo 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 Ne mancano due Uno sta là E uno sta là Che fastidio Ok Ora poi siamo per rascendere Dai Confermo Level up Ah Mi sa che è il 50 No vabbè si in teoria si Ok Olè Olè Ok tolte tutti Eh dove si faceva su No dove si faceva Qua no Qua Perché non mi fa Vabbò Se mi vendesse questo Ok Ora possiamo andare avanti invece con le missioni Quindi andiamo sulla mappa Quali cose fanno aumentare l'adventure rank Cioè penso a qualsiasi missione Qualsiasi Qualsiasi stronzata Ok Qua c'ho qualcosa da fare Ah ok Ecco perché Ma dai Ciao Matteo Com'è Ok andiamo dalla bambina zombie Perdoni Non siamo stati in grado di 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 Cosa Ritorno Ah si Premisco qua Non mi ha dato nessuna traccia Delle Coco Goat Adepti Beast Deve che ci ha parlato Ah che dispiacere Non ti Non ti preoccupare Ma Mi sento molto Disappuntata Ah povera Cici Perché si Mi sento così colpevole Hai altri indizi Il latte di coconut Molto gustoso Sono molto più Del normale Latte di capra Ehm Solamente una database Può fare Un latte così gustoso Mi dispiace Ho una memoria di merda Non mi posso ricordare Il nome del latte Per questo Che l'ho scritto Dove che l'ho messo Ah questa è una coconut milk Lo ti dico Ah ma sono delle palme Le Coco Goat Vi devo una scusa Ehm Concordo con Assia Quello che ha appena Già stato Con questa bambina Zombie Dove forse Io avrei dovuto Una dovuta Diligenza Non ti preoccupare Zombie Non lo sapevi Come dice proprio io Tutte le cose Sono randomiche E Come può essere Possibile Qualsiasi Letteramente Nessuno avrebbe potuto Immaginarsi Sta roba Mi dispiace Che Ci ci hai detto Qualcosa di nuovo Non è che sono delle palme Che pensavo Che l'arte venisse Solo dalle capre Quindi la tricocco Venisse dalle cocco capre Sì sì Ho capito Ah ok Mi piace Piero ma Paimon Deve lasciare il lavoro Di Distruggere il motore Che stava Mio per te Ok Sembra che ci ci C'è abbastanza male Ho bisogno solamente Il tempo per Chi è questo Qualcuno Grazie per Bado Tra la cici Chi cazzo sei Vai Il boss Della farmacia Che bel serpentello Che c'ha Poi mi pensavo Che c'è C'è il boss C'è fuori Che questo Tipo strano Penso Non lo so Che Che veste Ingredienti medicinali Attorno al suo collo E' carino Questo più C'è molto Più che Un semplice Eh E' un semplice Sto parlando Wow Sto parlando Sì ma Quando mi trovo Con un strano Riparlo Sì ma Sì ma Me ne aveva Ragazza Così vuoi vedere Cosa vi porta qui Parte il Parte la Casinale Qui c'è E' un semplice E' un semplice Pro folle Non siamo mai In grado Di Di fare così Tanti mora Come per Il signor Jong Lee Corretto Non te sta Preoccupa Che faremo 21 di dopo Torno Da child Chi si sbellica Dalla risata Sì ma Non si tratta di un'altra domanda. Bene. Per cui hanno scelto gli altri... Ehm... Rekuzzi... Mi sono la chiesa di Farui Kou-si. Per ora, non mi ha deciso di lavorare in futuro. Tra il farmaccio è avuto una necessità di latte di cocco. Infatti dovrebbero irritarli... città 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 donna che rostrano di voglia noi gioca la città la città la città la carima stava carima st della corse donna io lo scuole che si massi con noi e se come i 299 299 non è molto più ma pensi ora se se si non 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 mi città lo no Scusate sono scemo Vi prego fatemi giocare Fatemi giocare Per favore Eccatrina Si parlate di Gishing Per fare il Golden House Eccatrina Si parlate di Gishing Eccatrina 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 Va bene Va bene Beh se ne prendono un sacco comunque di Di primo gem Ma a parte il fatto Ah mi hai chiesto di tornare A Rob di Homeward Aspetta Che stava Era questo quello che volevi? No non questo lì Passaggio time Che vuoi vedere? Questo Questo? No Questa che esperienza Forse intendi di qua No Quale? C'è il ritardo C'è il ritardo Aspetta Un'altra schermata Quindi forse intendi ancora qua Questo libro qua intendi beh La mappa mare La mappa mare Il grano è una lezione alimentale Buona per Mono Ok immaginavo Non resti dire questo Adesso Adesso ho due 80 Mi serve ancora un botto Si L'ho fatti tutti Si Starburst Che mi manca scusami? Mi manca Mi manca Ehm Di solo un totale di 180 Original Racing Posso parlare tranquillamente E come mi manca tutto in realtà? Ehm Allora Ah ok Per completare 15 challenge Usare 360 resi in un bordello E completare Le line Che cos'è sta roba? Vorremmo possiamo provare a fare qualche Qualche cosa per andare a vedere se riesco a Allora Character I palini di blu sulla mappa Ok Allora questi qui sono gli altri 50 50 Vorrei provare a far scendere l'ho E Da cosa ho bisogno? Questo qui Ehm Vediamo puoi dirmi dove si trova? Intanto Questo che è troppato dagli Spectres Roba di Nazuma? Che è Nazuma? Che è Nazuma? Ah la nuova mappa? Ok Ok C'è quindi questa roba qua non la trovo io Posso provare intanto a tirare su lei? Non so se ha senso Ehm No Penso che per adesso boh O me li metto a fare così random? No No Intanto andava a mettere a posto il coso No 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 Quanti giorni c'ho per farlo questo? 7 giorni Vabbò Non è un problema se In ritardo un attimo magari aspetta di beccare qualche Ehm In realtà In realtà non andava troppo senza aspettare Forse conviene farlo subito Ehm Ehm Vabbè Vabbè Ok Allora Allora comunque abbiamo del tempo per farlo Posso Andare a fare qualcosa sulla mappa Allora Ho detto che servono dei domini Questo qua è un dominio ad esempio Cosa sono i dominio? Non mi ricordo Ma forse i domini sono Sono tipo Tipo questo No per micchia Quanta roba è da Voilà Sono quelli a rombo sulla mappa A rombo Ah tipo questo qua Vediamo un po' cosa Facciamo una a casa e vediamo cosa mi da O forse Non so se ha senso farne una a casa Ah Ah non posso farlo Perché il ricomento è party level È 35 Un party level Quanto è Eh in realtà penso sì Perché se lo vedrei Un party level è Molto più di 45 Sono ottenuti a 50 Ok Proviamo Non so se lo vedrei Non so se lo vedrei ma che sta succedendo la cosa non esplode ma sai te non li sberlo con queste cose si 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 lo so lo so che miseria che sberbe che tirano mi sembra che è un po' esagerata l'ultima ah era solamente questo ok per uscire ah ok ok grazie ok quindi se adesso vado e vado su more path non mi ha fatto solo la resina però ho sbaglio neanche quella del dominio mi ha dato perché ah e però comunque il dominio non me l'ha fatto fare questo l'ho fatto questo l'ho fatto questo non l'ho fatto questo non l'ho fatto e posso farlo andiamo ho sbagliato capire mi chiede poi ecco se 45 mi chiede creo e geo non ce la faccio mi viene qualcuno di voi da aiutare però questo non riesco a farlo no ecco questo potrei c'è sempre il problema che non so se mi fa usare le no geo arca miseria poi ricomando e parte livello 50 pure qua non posso farlo da solo portami ah ok ok grazie posso fare questo intanto le palle blu che travi sulla mappa le palle blu che travi sulla mappa quali sarebbero quali sono le palle blu lì tipo queste no più giovani un attimo dai ti ho detto questo dai ti ho detto aiuta chi è giù chi ci sta le palle blu sarebbero di nome Queste Sì Eh infatti era quello che volevo vedere Per le pare di andare qua Volendo Certo non mi dà un cazzo Layline deposit Andiamo un po' No eh Sotto cosa le trovo però? Sotto enemies? E che boss enemies? Che cazzo è sto qua? Cazzo è ritto? Cazzo è ritto Eh no Mi sentirei di preciso dove ne trovo uno? Delle laylines Layline scusami Sinistra di monstat C'è questa di palla a blu? Ci sono due simboli Uno dorato E uno blu Eh mi sa che non lo sbloccate In caso Forse non è di questi? A destra Ok Quello dorato è questo Oh Eccolo Facciamolo Devo fare quelle blu Quindi tipo questa Ok Navigate E teleportiamoci qua Ok Ok Quando la fai si sposta Ok 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 Ah ma sono poi Il mio stesso livello Praticamente Loro Oh shit Che puro Udo Che puro Udo Ok 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 Ora si è spostata Ed è andata qua Ok 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 Quindi se vado un attimo Qua Muoio Ok Però c'è questo Mghia Di stare 360 E sto ancora a 170 Se ne faccio 30 Sono 30 che posso fare No Quanto posso fare nel giorno 60 Ciao simfi Come va Non va Cambiando Ah Giustamente Che cliccavo No A 160 Utilizzabili al giorno Minchia Un fracco Non ho baffato Un fracco Un fracco Un fracco Non ho baffato Un fracco Non ho baffato Un fracco Non ho baffato Un fracco 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 c'è altro qua ok posso dipparmi qua la mazza è tantissimo se posso fare 160 al giorno 160 più ah giusto se considero che qua sto a 190 160 ci arrivo facendo tutto lì in un giorno faccio quella per l'esperienza almeno è utile guarda la che roba i boss ne servono 40 ah ok uffa vabbè ma tanto alla fine ci vuole un sacco a fare a sprecare tutti i 160 no quando è rimasto un elettro di più cose ok prendiamo tutto mazza sono già a metà del 28 buono non credo che più avanti non potete ah ok cioè io anche adesso potrei usarne 40 per il doppio di ricordo non potete non potete non potete non potete Oh, no. Ah, un oggetto, ok. A che punto sto? Minchia. Ciao, amurri. Che mi manca? Tre artefatti. A scendere e tirarmi alla fase 2 non so cosa significhi. Quelle vostre loli, grazie. Ok. Ah, ok. Ok, grazie. Homeward Path, allora... Quanto so, 250 su 360, ne mancano ancora 110. Non ho visto quante ne ho, ma lo scopriamo a breve. Sulla mappa, dove? Ah, sulla mappa. E vabbè. Pronto? Ok. Allora, le prossime le farò domani, se mi ricordo. Ho sbagliato? Ok. Oh, bastarda Perchè cosa ha fatto? Sì, beh, a me i tank non sono mai piaciuti, eh, nessun gioco Ok Ah, ok Amici direi che possiamo anche lasciarci qua Che mi sto cominciando ad abbioccare Quindi vi ringrazio per essere passati Noi ci vediamo domani, forse Lo sa E grazie a mozzo per avere sub Buonanotte a tutti ragazzi Ah, voi vedete tutto Palle Mettiamo Spotify tutto schermo Dai Buonanotte